Zaccaria, capitolo primo. L'ottavo mese, il secondo anno di Dario, la parola dell'Eterno fu rivolta al profeta Zaccaria, figliolo di Berecchia, figliolo di Iddo, il profeta in questi termini. L'Eterno è stato gravemente adirato contro i vostri padri. Tu dunque di loro, così parla l'Eterno degli eserciti, tornate a me, dice l'Eterno degli eserciti, e io tornerò a voi, dice l'Eterno degli eserciti. Non siate come i vostri padri, ai quali i profeti precedenti si rivolgevano, dicendo, così parla l'Eterno degli eserciti, ritraetevi dalle vostre vie malvagie e dalle vostre malvagie azioni. Ma essi non dettero ascolto e non prestarono attenzione a me, dice l'Eterno. I vostri padri, dove sono essi? E i profeti potevano essi vivere in perpetuo, ma le mie parole e i miei decreti, dei quali avevo dato in carico a miei servi i profeti, non arrivarono essi a colpire i padri vostri? Allora essi si convertirono e dissero, l'Eterno degli eserciti ci ha trattato secondo le nostre vie e secondo le nostre azioni, come aveva risoluto di fare. Il ventiquattresimo giorno dell'undicesimo mese, che è il mese di Shebat, nel secondo anno di Dario, la parola dell'Eterno fu rivolta a Zaccaria, figliolo di Berechia, figliolo d'Ido, il profeta, in questi termini. Io ebbi di notte una visione, ed ecco un uomo montato sopra un cavallo rosso. Egli stava fra le piante di mortella in un luogo profondo, e dietro a lui c'erano dei cavalli rossi, sauri e bianchi. E io dissi, che sono questi, signor mio? E l'angelo che parlava a me, ecco, mi disse, io ti farò vedere che cosa sono questi. E l'uomo che stava fra le piante di mortella, prese a dire, questi sono quelli che l'Eterno ha mandati a percorrere la terra. E quelli che rivolsero all'angelo dell'Eterno che stavano fra le piante di mortella, e dissero, noi abbiamo percorso la terra, ed ecco tutta la terra è in riposo e tranquilla. Allora l'angelo dell'Eterno prese a dire, o Eterno degli eserciti, fino a quando non avrai tu pietà di Gerusalemme e della città di Giuda, contro le quali sei stato indignato durante questi settant'anni? E l'Eterno rivolse all'angelo che parlava a me, ecco, delle buone parole, delle parole di conforto. E l'angelo che parlava a me, ecco, mi disse, grida e di, così parla l'Eterno degli eserciti. Io provo una gran gelosia per Gerusalemme e per Sion, e provo un grande sdegno contro le nazioni che se ne stanno ora tranquille, e che, quando io mi indignai un poco contro di essa, contribuirono ad accrescere la sua disgrazia. Perciò, così parla l'Eterno, io mi volgerò di nuovo a Gerusalemme con compassione, e la mia casa vi sarà ricostruita, dice l'Eterno degli eserciti, e la corda sarà di nuovo tirata su Gerusalemme. Grida ancora e di, così parla l'Eterno degli eserciti, le mie città ricurgiteranno ancora di beni, e l'Eterno consolerà ancora Sion, e sceglierà ancora Gerusalemme. Poi, alzati gli occhi, guardai, ed ecco quattro corna. E io dissi all'angelo che parlava a Meco, che sono queste? Ed egli mi rispose, queste sono le corna che hanno disperso Giù da Israele e Gerusalemme. E l'Eterno mi fece vedere quattro fabbri, e dissi, questi che vengono a fare. Ed egli rispose e mi disse, quelle là sono le corna che hanno disperso Giù da sì che nessuno alzava più il capo, ma questi qui vengono per spaventarle per abbattere le corna delle nazioni che hanno alzato il loro corno contro il paese di Giù da per disperderne gli abitanti. Zaccaria, capitolo secondo E alzai gli occhi, guardai, ed ecco un uomo che aveva in mano una corda da misurare. E io dissi, dove vai? Ed egli mi rispose, vado a misurare Gerusalemme per vedere quale ne sia la larghezza e quale la lunghezza. Ed ecco l'angelo che parlava a Meco si fece avanti, e un altro angelo li uscì incontro. E gli disse, corri, parla a quel giovane e digli, Gerusalemme sarà abitata come una città senza mura. Tutta sarà la quantità di gente e di bestiame che si troverà in mezzo ad essa. Ed io, dice l'Eterno, sarò per lei un muro di fuoco tutto intorno, e sarò la sua gloria in mezzo a lei. O là, fuggite dal paese del settentrione, dice l'Eterno, poiché io vi ho sparsi ai quattro venti dei cieli, dice l'Eterno. O là, Sion, mettiti in salvo, tu che abiti con la figliuola di Babilonia, poiché così parla l'Eterno degli eserciti, è per rivendicare la sua gloria che Egli mi ha mandato verso le nazioni che han fatto di voi la loro preda, perché chi tocca a voi tocca la pupilla dell'occhio suo. Infatti, ecco, io sto per agitare la mia mano contro di loro, ed essi diventeranno preda di quelli che erano loro asserviti, e voi conoscerete che l'Eterno degli eserciti mi ha mandato. Manda, grida di gioia, rallegrati, oh figliola di Sion, poiché ecco io sto per venire e abiterò in mezzo a te, dice l'Eterno. E in quel giorno molte nazioni si uniranno all'Eterno e diventeranno mio popolo, e io abiterò in mezzo a te, e tu conoscerai che l'Eterno degli eserciti mi ha mandato a te. E l'Eterno possederà Giuda come sua parte sulla terra santa, e sceglierà ancora Gerusalemme. Ogni carne faccia silenzio in presenza dell'Eterno, poiché Egli s'è destato nella sua santa dimora. Zaccaria, capitolo terzo E mi fece vedere il sommo sacerdote Giosuè, che stava in piedi davanti all'Angelo dell'Eterno, e Satana che gli stava alla destra per accusare, e l'Eterno disse a Satana. Ti sgridi l'Eterno, Satana, ti sgridi l'Eterno che ha scelto Gerusalemme, non è questo un tizzone strappato dal fuoco? Or Giosuè era vestito di vesti sudici, e stava in piedi davanti all'Angelo. E l'Angelo prese a dire a quelli che gli stavano davanti, levategli di dosso i vestimenti sudici. Poi disse a Giosuè, guarda, io ti ho tolto di dosso la tua iniquità, e ti ho vestito di abiti magnifici. Io, dissi, gli sia messa in capo una tiara pura. E quelli gli possero in capo una tiara pura, e gli misero delle vesti, e l'Angelo dell'Eterno era qui vi presente. E l'Angelo dell'Eterno fece a Giosuè questo solenne ammonimento. Così parla l'Eterno degli eserciti. Se tu cammini nelle mie vie e osservi quello che t'ho comandato, anche tu governerai la mia casa e custodirai i miei cortili, e io ti darò libero accesso fra quelli che stanno qui davanti a me. Ascolta dunque, o Giosuè, sommo sacerdote, tu e i tuoi compagni che stanno seduti davanti a te, poiché questi uomini servono di segni, ecco, io faccio venire il mio servo, il germoglio, poiché, guarda, la pietra che è opposta davanti a Giosuè, sopra un'unica pietra stanno sette occhi, ed ecco, io vi indicherò quello che vi deve essere inciso, dice l'Eterno degli eserciti, e terrò via l'inequità del paese in un sol giorno. In quel giorno, dice l'Eterno degli eserciti, voi vi inviterete gli uni gli altri sotto la vigna e sotto il fico. Zaccaria, capitolo quarto E l'angelo che parlava a me, cotornò e mi svegliò come si sveglia un uomo dal sonno, e mi disse, che vedi? Ed io risposi, ecco, vedo un candelabro tutto d'oro che ha in cima un vaso, ed è munito delle sue sette lampade, e di sette tubi per le lampade che ciascuno ha in cima. E vicino al candelabro stanno due ulivi, uno a destra del vaso, e l'altro alla sua sinistra. E io prese a dire all'angelo che parlava a me, che significano queste cose, signor mio? E l'angelo che parlava a me rispose e mi disse, non sai quel che significano queste cose? Ed io dissi, no, mio signore. Allora egli, rispondendomi, disse, è questa la parola che l'Eterno volge a Zorobabele. Non per potenza né per forza, ma per lo spirito mio, dice l'Eterno degli eserciti. Chi sei tu, o grande monte, davanti a Zorobabele? Tu diventerai pianura, ed egli porterai innanzi la pietra della vetta in mezzo alle grida di grazia, grazia su di lei. E la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini. Le mani di Zorobabele hanno gettato le fondamente di questa casa, e le sue mani la finiranno. E tu saprai che l'Eterno degli eserciti mi ha mandato a voi. Poiché chi potrebbe sprezzare il giorno delle piccole cose, quando quei sette là, agli occhi dell'Eterno che percorrono tutta la terra, vedono con gioia il piombino in mano a Zorobabele? E io risposi e gli dissi, che significano questi due ulivi a destra e a sinistra del candelabro? E per la seconda volta io presi a dire, che significano questi due ramoscelli di ulivo che stanno al lato dei due condotti d'oro per cui scorre l'olio dorato? Ed egli rispose e mi disse, non sai che significano queste cose? Io risposi, no, signor mio. Allora gli disse, questi sono i due unti che stanno presso al Signore di tutta la terra. Zaccaria, capitolo quinto Ed io alzai di nuovo gli occhi, guardai, ed ecco un rotolo che volava. E l'angelo mi disse, che vedi? Ed io risposi, vedo un rotolo che vola, la cui lunghezza è di venti cubiti e la larghezza di dieci cubiti. Ed egli mi disse, questa è la maledizione che si spande soprattutto il paese, Poiché ogni ladro a tenor di essa sarà estirpato da questo luogo, ed ogni spergiuro a tenor di essa sarà estirpato da questo luogo. Io la faccio uscire, dice l'Eterno degli eserciti, ed essa entrerà nella casa del ladro e nella casa di colui che giure il falso nel mio nome, Si stabilirà in mezzo a quella casa e la consumerà con legname le pietre che contiene. E l'angelo che parlava a me che uscì, e mi disse, alza gli occhi, e guarda, che cosa esce là? Ed io risposi, che cos'è? Ed egli disse, è l'Efa che esce. Poi aggiunse, in tutto il paese non hanno occhio che per quello. Ed ecco fu alzato una pietra di piombo, e in mezzo all'Efa stava seduta una donna. Ed egli disse, questa è la malvacità, e la gettò in mezzo all'Efa. Poi gettò la piastra di piombo sulla bocca dell'Efa, e poi, alzati di occhi, guardai, ed ecco due donne che s'avanzavano. Il vento soffiava nelle loro ali, e le ali che avevano erano come ali di cicogna. Ed esse sollevarono l'Efa fra terra e cielo, ed io dissi all'angelo che parlava a me che, dove portano esse l'Efa? Ed egli mi rispose, nel paese di Sinear, per costruirli quivi una casa, e quando sarà preparata, esso sarà posto quivi al suo luogo. Zaccaria capitolo sesto E alzai di nuovo gli occhi, guardai, ed ecco quattro carri che uscivano di fra i due monti, e i monti erano monti di rame. Al primo carro c'erano dei cavalli rossi, al secondo carro dei cavalli neri, al terzo carro dei cavalli bianchi, al quarto carro dei cavalli chiazzati di rosso. Ed io presi a dire all'angelo che parlava meco, che sono questi, mio Signore? E l'angelo rispose e mi disse, questi sono i quattro venti del cielo, che escano dopo essersi presentati al Signore di tutta la terra. Il carro dai cavalli neri va verso il paese del settentrione, i cavalli bianchi lo seguono, i chiazzati vanno verso il paese del mezzogiorno, e i rossi escono e chiedono di andare a percorrere la terra. E l'angelo disse loro, andate, percorrete la terra. Ed essi percorsero la terra. Poi egli mi chiamò e mi parlò così. Ecco, quelli che escano verso il paese del settentrione, acquetano la mia ira sul paese del settentrione. La parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini. Prendi da quelli della cattività, cioè da Eldai, da Tobia e da Gedadaia, e recati oggi stesso in casa di Giosia, figliolo di Sofonia, dove si sono giunti da Babilonia. Prendi dell'argento e dell'oro, fanne delle corone, e mettile sul capo di Giosuè, figliolo di Geosadac, sommo sacerdote, e parlali e digli. Così parla l'Eterno degli eserciti. Ecco un uomo che ha nome il Germoglio. Egli germoglierà nel suo luogo ed edificherà il Tempio dell'Eterno. Egli edificherà il Tempio dell'Eterno, e porterà le insignie della gloria, e si assiderà e dominerà sul suo trono, e sarà sacerdote sul suo trono, e vi sarà fra i due un consiglio di pace. E le corone saranno per Helem, per Tobia, per Gedadaia, e per Hem, figliolo di Sofonia, un ricordo del Tempio dell'Eterno. E quelli che sono lontani verranno e lavoreranno nella costruzione del Tempio dell'Eterno, e voi conoscerete che l'Eterno degli eserciti mi ha mandato a voi. Questo avverrà se date veramente ascolto alla voce dell'Eterno, il vostro Dio. Zaccaria, capitolo settimo E avvenne che il quarto anno del re Dario, la parola dell'Eterno fu rivolta a Zaccaria il quarto giorno del nono mese, cioè Chisleu. Quelli di Beter avevano mandato Sarezzer e Regemmelech con la loro gente per implorare il favore dell'Eterno, e per parlare ai sacerdoti della casa dell'Eterno degli eserciti e ai profeti in questo modo. Dobbiamo noi continuare a piangere il quinto mese e a fare astinenza come abbiamo fatto per tanti anni? E la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini. Parla a tutto il popolo del paese e ai sacerdoti e di Quando avete digiunato e fatto cordoglio il quinto e il settimo mese durante questi settant'anni, avete voi digiunato per me, proprio per me? E quando mangiate e quando bevete, non siete voi che mangiate e voi che bevete? Non dovreste voi dare ascolto alle parole che l'Eterno degli eserciti ha proclamate per mezzo dei profeti di prima, quando Gerusalemme era abitata e tranquilla con le sue città all'intorno, ed erano pure abitati il mezzogiorno e la pianura? E la parola dell'Eterno fu rivolta a Zaccaria in questi termini. Così parlava l'Eterno degli eserciti, fate giustizia fedelmente e mostrate l'uno per l'altro bontà e compassione. Non opprimete la vedova nell'orfano, lo straniero nel povero, e nessuno di voi macchini del male contro il fratello nel suo cuore. Ma essi rifiutarono di fare attenzione, opposero una spalla ribelle e si tapparono gli orecchi per non udire. Tesero il loro cuore duro come il diamante per non ascoltare la legge e le parole che l'Eterno degli eserciti mandava loro per mezzo del suo spirito, per mezzo dei profeti di prima. Perciò ci fu grande indignazione da parte dell'Eterno degli eserciti, e avvenne che siccome gli chiamava e quelli non davano ascolto, così quelli chiameranno e io non darò ascolto, dice l'Eterno degli eserciti, e le disperderò fra tutte le nazioni ed essi non hanno mai conosciute. E il paese rimarrà desolato dietro a loro, senza più nessuno che vi passi o vi ritorni. D'un paese delizioso essi ne hanno fatto una desolazione. Zaccaria capitolo ottavo E la parola dell'Eterno degli eserciti mi fu rivolta in questi termini. Così parla l'Eterno degli eserciti. Io provo per Sion una grande gelosia, e sono furiosamente geloso di lei. Così parla l'Eterno. Io torno a Sion e dimorerò in mezzo a Gerusalemme. Gerusalemme si chiamerà la città della fedeltà e il monte dell'Eterno degli eserciti, monte della santità. Così parla l'Eterno degli eserciti. Ci saranno ancora dei vecchi e delle vecchie che si siederanno nelle piazze di Gerusalemme, e ognuno avrà il bastone in mano a motivo della gravetà. E le piazze della città saranno piene di ragazzi e di ragazze che si divertiranno nelle piazze. Così parla l'Eterno degli eserciti. Se questo parla meraviglioso agli occhi del resto di questo popolo, in quei giorni sarà esso meraviglioso anche agli occhi miei, dice l'Eterno degli eserciti. Così parla l'Eterno degli eserciti. Ecco, io salvo il mio popolo dal paese del Levante e dal paese del Ponente, e le ricondurrò, ed essi abiteranno in mezzo a Gerusalemme, ed essi saranno mio popolo, ed io sarò loro Dio con fedeltà e con giustizia. Così parla l'Eterno degli eserciti. Le vostre mani siano forti, o voi che udite in questi giorni queste parole dalla bocca dei profeti, che parlano al tempo che la casa dell'Eterno, il Tempio, fu fondata per essere ricostruita. Prima di quel tempo non vera salario per il lavoro dell'uomo, né salario per il lavoro delle bestie. Non vera alcuna sicurezza per quelli che andavano e venivano a motivo del nemico. E io mettevo gli uni alle prese con gli altri. Ma ora io non son più per il rimanente di questo popolo, come ero ai tempi addietro, dice l'Eterno degli eserciti. Io vi salverò e sarete una benedizione. Non temete, le vostre mani siano forti. Poiché così parla l'Eterno degli eserciti, come io pensai di farvi del male quando i vostri padri mi provocarono ad ira, dice l'Eterno degli eserciti, e non mi pentì. Così, di nuovo, ho pensato in questi giorni di far del bene a Gerusalemme e alla casa di Giuda. Non temete, queste sono le cose che dovete fare. Dite la verità ciascuno al suo prossimo. Fate giustizia alle vostre porte, secondo verità e per la pace. Nessuno macchina in cuor suo alcun male contro il suo prossimo. E non amate il falso giuramento, perché tutte queste cose io le odio, dice l'Eterno. E la parola dell'Eterno degli eserciti mi fu rivolta in questi termini. Così parla l'Eterno degli eserciti. Il digiuno del quarto, il digiuno del quinto, il digiuno del settimo e il digiuno del decimo mese diventeranno per la casa di Giuda una gioia, un gaudio alle feste d'esultanza. Amate dunque la verità e la pace, così parla l'Eterno degli eserciti. Verranno ancora dei popoli e gli abitanti di molte città e gli abitanti dell'una andranno all'altra e diranno, andiamo, andiamo ad implorare il favore dell'Eterno, a cercare l'Eterno degli eserciti. Anch'io voglio andare, e molti popoli e delle nazioni potenti verranno a cercare l'Eterno degli eserciti a Gerusalemme e ad implorare il favore dell'Eterno. Così parla l'Eterno degli eserciti. In quei giorni avverrà che dieci uomini di tutte le lingue delle nazioni piglieranno un giudeo per il lembo della veste e diranno, Noi andremo con voi, perché abbiamo udito che Dio è con voi. Zaccaria capitolo nono Oracolo, parola dell'Eterno contro il paese di Adrà che si ferma sopra Damasco, poiché l'Eterno ha l'occhio su tutti gli uomini e su tutte le tribù di Israele. Essa si ferma pure sopra Amata ai confini di Damasco, su Tiro e Sidone, perché son così savie. Tiro si è costruito a una fortezza ed ha ammassato argento come polvere e oro come fango di strada. Ecco, l'Eterno si impadronirà di essa, getterà la sua potenza nel mare ed essa sarà consumata dal fuoco. Ascalon lo vedrà e avrà paura, anche Gaza, e si torcerà dal gran dolore, e così Ekrom, perché la sua speranza sarà confusa, e Gaza non avrà più re, e Ascalon non sarà più abitata. Dei bastardi abiteranno ad Asdod, ed io annienterò l'orgoglio dei filistei. Ma io toglierò il sangue dalla bocca del filisteo e le abominazioni di fra i suoi denti, e anche egli sarà un residuo per il nostro Dio, sarà come un capo di Giuda, ed Ekrom come il Gebuseo. Ed io m'accamperò attorno alla mia casa per difenderla da ogni esercito, da chi va e viene, e nessun esattore di tributi passerà più da loro, perché ora ho visto con gli occhi miei. Esulta grandemente, o figliuola di Sion, manda gridi d'allegrezza, o figliuola di Gerusalemme. Ecco, il tuo re viene a te, egli è giusto e vittorioso, umile e montato sopra un asino, sopra un pulletro d'asina. Io farò sparire i carri di Efraime nei cavalli da Gerusalemme, e gli archi di guerra saranno annientati. Egli parlerà di pace alle nazioni, il suo dominio si estenderà da un mare all'altro, e dal fiume sino all'estremità della terra. E te pure, Israele, a motivo del sangue del tuo patto, io trarrò i tuoi prigionieri dalla fossa senza acqua. Tornate alla fortezza, voi prigionieri della speranza. Anc'oggi io vi dichiaro che vi renderò il doppio. Poiché io piego Giuda come un arco, armo l'arco con Efraim, e solleverò i tuoi figliuoli, Sion, contro i tuoi figliuoli, O'Yaven, e ti renderò simile alla spada di un prode. L'Eterno apparirà sopra di loro, e la sua freccia partirà come un lampo. Il Signore l'Eterno suonerà la tromba, e avanzerà coi turbini del mezzogiorno. L'Eterno degli eserciti li proteggerà, ed essi divoreranno e calpesteranno le pietre di fionda, berranno, schiamazzeranno come citati dal vino, e saranno pieni come coppe da sacrifici, come i canti dell'altare. E l'Eterno, il loro Dio, li salverà in quel giorno come il greggio del suo popolo, perché saranno come pietre di un diadema che rifuggeranno sulla terra. Poiché qual prosperità sarà la loro, e quanta sarà la loro bellezza! Il grano farà crescere i giovani, e il mosto le fanciulle. Zaccaria, capitolo decimo Chiedete all'Eterno la pioggia nella stagione di primavera. L'Eterno che produce i lampi, darà loro abbondanza di pioggia ad ognuno erba nel proprio campo, poiché gli idoli domestici dicono cose vane, gli indovini vedono menzogne, e i sogni mentiscono e danno un vano conforto. Perciò costoro vanno errando come pecore, sono afflitti perché non v'è pastore. La mia irea si è accesa contro i pastori, e io punirò i capri, poiché l'Eterno degli eserciti visita il suo greggio, la casa di Giuda, e ne fa come il suo cavallo d'onore nella battaglia. Da lui uscirà la pietra angolare, da lui il piuolo, da lui l'arco di battaglia, da lui usciranno tutti i capi assieme, e saranno come prodi che calpesteranno il nemico in battaglia nel fango delle strade, e combatteranno perché l'Eterno è con loro, ma quelli che sono montati sui cavalli saranno confusi. E io fortificherò la casa di Giuda, e salverò la casa di Giuseppe, e li ricondurrò perché ho pietà di loro, e saranno come se non li avessi mai scacciati, perché io sono l'Eterno, il loro Dio, e li esaudirò. E quelli di Efraim saranno come un prode, e il loro cuore si rallegrerà come per effetto del vino, i loro figliuoli lo vedranno e si rallegreranno, il loro cuore esulterà nell'Eterno. Io fischierò loro e li raccoglierò perché io li voglio riscattare, ed essi moltiplicheranno come già moltiplicarono, io li disseminerò fra i popoli, ed essi ricorderanno di me nei paesi lontani, e vivranno coi loro figliuoli, e torneranno. Io li farò tornare dal paese d'Egitto, e li raccoglierò dalla Siria, li farò venire nel paese di Gala, dal Libano, e non vi si troverà posto sufficiente per loro. Egli passerà per il mare dalla distretta, ma nel mare egli colpirà i flutti, e tutte le profondità del fiume saranno prosciugate. L'orgoglio della Siria sarà abbattuto, e lo scettro d'Egitto sarà tolto via. Io li renderò forti nell'Eterno, ed essi cammineranno nel suo nome, dice l'Eterno. Zaccaria capitolo undicesimo Libano, apri le tue porte, e il fuoco divori i tuoi cedri. Urlaci presso, perché il cedro è caduto, e gli alberi magnifici sono devastati. Urlate, querce di Basam, perché la foresta è impenetrabile e abbattuta. Sodono i lamenti dei pastori, perché la loro magnificenza è devastata. Sode il ruggio delle oncelli, perché le rive lussureggianti del Giordano sono devastate. Così parla l'Eterno, il mio Dio, pasci le mie pecore destinate al macello, che i compratori uccidano senza rendersi colpevoli, e delle quali i venditori dicono, sia benedetto l'Eterno, io m'arricchisco. E che i loro pastori non risparmiano affatto, poiché io non risparmierò più gli abitanti del paese, dice l'Eterno. Anzi, ecco, io abbandonerò gli uomini, ognuno in balia del suo prossimo e in balia del suo re. Essi schiacceranno il paese, e io non libererò alcuno dalle loro mani. Allora io mi misi a pascere le pecore destinate al macello, e perciò le più misere del grege le presi, e presi due verghe, e chiamai una a favore e l'altra a vincoli, e mi misi a pascere il grege. E sterminai tre pastori in un mese, e l'anima mia perdette la pazienza con loro, e anche l'anima loro mi aveva preso a sdegno. Ed io dissi, non vi pascerò più. La moribonda muoia, e quella che sta per perire perisca, e quelle che restano divorino l'una la carne dell'altra. E presi la mia verga a favore, e la spezzai per annullare il patto che avevo stretto con tutti i popoli. E quello fu annullato in quel giorno, e le pecore più misere del grege che m'osservavano conobbero che quella era la parola dell'Eterno. E io dissi loro, se vi par bene, ditemi, se vi par bene, considerate, e datemi il mio salario, se non lasciate stare. Ed esse mi pesarono il mio salario, trenta sicli d'argento. E l'Eterno mi disse, gettalo per il vasaio questo magnifico prezzo al quale mi hanno stimato. E io presi trenta sicli d'argento, e li gettai nella casa dell'Eterno per il vasaio. Poi spezzai l'altra verga a vincoli, per rompere la fratellanza fra Giude e Israele. E l'Eterno mi disse, prenditi anche gli arnesi di un pastore insensato. Perché, ecco, io susciterò nel paese un pastore che non si curerà delle pecore che periscono, non cercherà le disperse, non guarirà le ferite, non nutrirà quelle che stanno in pie, ma mangerà la carne delle grasse e strapperà loro fino le unghie. Vai al pastore da nulla che abbandona il grege. La spada gli colpirà il braccio e l'occhio destro, il braccio gli seccherà del tutto, e l'occhio destro gli si spegnerà interamente. Zaccaria, capitolo dodicesimo Oracolo, parola dell'Eterno riguardo a Israele, parola dell'Eterno che ha disteso i cieli e fondata la terra, e che ha formato lo spirito dell'uomo dentro di lui. Ecco, io farò di Gerusalemme una coppa di stordimento per tutti i popoli all'intorno, e questo concernerà anche Giuda, quando si cingerà l'assedio Gerusalemme. E in quel giorno avverrà che io farò di Gerusalemme una pietra pesante per tutti i popoli, tutti quelli che se la caricheranno addosso ne saranno malamente feriti, e tutte le nazioni della terra suddoneranno contro di lei. In quel giorno, dice l'Eterno, io colpirò di smarrimento tutti i cavalli e di delirio tutti quelli che li montano. Io aprirò i miei occhi sulla casa di Giuda, ma colpirò di ciscità tutti i cavalli dei popoli. E i capi di Giuda diranno in cuor loro, gli abitanti di Gerusalemme sono la mia forza nell'Eterno degli eserciti loro Dio. In quel giorno io renderò i capi di Giuda come un braciere ardente in mezzo a della legna, come una torcia accesa in mezzo a dei covoni. Essi divoreranno a destra e a sinistra tutti i popoli d'ogni intorno, e Gerusalemme sarà ancora abitata nel suo proprio luogo a Gerusalemme. L'Eterno salverà prima le tende di Giuda, perché la gloria della casa di Davide e la gloria degli abitanti di Gerusalemme non si innalzi al di sopra di Giuda. In quel giorno l'Eterno proteggerà gli abitanti di Gerusalemme, e colui che fra loro vascilla sarà in quel giorno come Davide, e la casa di Davide sarà come Dio, come l'angelo dell'Eterno davanti a loro. E in quel giorno avverrà che io avrò cura di distruggere tutte le nazioni che verranno contro Gerusalemme. E spanderò sulla casa di Davide sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione, ed essi riguarderanno a me, a colui che essi hanno trafitto, e ne faranno cordoglio come si fa cordoglio per un figliuolo unico, e lo piangeranno amaramente come si piange amaramente un primogenito. In quel giorno vi sarà un gran lutto in Gerusalemme pari al lutto di Adadrimon nella valle di Megiddon, e il paese farà cordoglio, ogni famiglia da sé, la famiglia della casa di Davide da sé, e le loro mogli da sé, la famiglia della casa di Natan da sé, e le loro mogli da sé, la famiglia della casa di Levi da sé, e le loro mogli da sé, la famiglia degli scimieti da sé, e le loro mogli da sé, e tutte le famiglie saranno ognuna da sé, e le mogli da sé. Zaccaria capitolo tredicesimo In quel giorno vi sarà una fonte aperta per la casa di Davide e per gli abitanti di Gerusalemme, per il peccato e per l'impurità, e in quel giorno avverrà, dice l'Eterno degli eserciti, che io sterminerò dal paese i nomi degli idoli e non se ne farà più menzione, e i profeti pure, e gli spiriti immondi farò sparire dal paese. E avverrà che, se qualcuno farà ancora il profeta, suo padre e sua madre che l'hanno generato, gli diranno, tu non vivrai perché dici delle menzogne nel nome dell'Eterno, e suo padre e sua madre che l'hanno generato, lo trafiggeranno perché fa il profeta, e in quel giorno avverrà che i profeti avranno vergogna a ognuno della visione che proferiva quando profetava, e non si metteranno più il mantello di pelo per mentire, e ognuno dessi dirà, io non sono profeta, sono un coltivatore del suolo, qualcuno mi comprò fin dalla mia giovinezza, e gli si dirà, che sono quelle ferite che hai nelle mani? Ed egli risponderà, sono le ferite che ho ricevuto nella casa dei miei amici. Destati, o spada, contro il mio pastore e contro l'uomo che mi accompagno, dice l'Eterno degli eserciti, colpisci il pastore e sian disperse le pecore, ma io volgerò la mia mano sui piccoli, e in tutto il paese avverrà, dice l'Eterno, che i due terzi vi saranno sterminati, periranno, ma l'altro terzo vi sarà lasciato, e metterò quel terzo nel fuoco, e lo affinerà come si affina l'argento, lo proverò come si prova l'oro, essi invocheranno il mio nome, ed io li esaudirò, io dirò, è il mio popolo, ed essi diranno, l'Eterno è il mio Dio. Zaccaria, capitolo quattordicesimo Ecco, viene un giorno dell'Eterno, in cui le tue spoglie saranno spartite in mezzo a te. Io adunerò tutte le nazioni per far guerra a Gerusalemme, e la città sarà presa, le case saranno saccheggiate, e le donne violate, la metà della città andrà in cattività, ma il resto del popolo non sarà sterminato dalla città. Poi, l'Eterno si farà innanzi, e combatterà contro quelle nazioni, come egli combatté, le tante volte, il dì della battaglia. I suoi piedi si poseranno in quel giorno sul monte degli Ulivi, che è di rimpetto a Gerusalemme, a Levante, e il monte degli Ulivi si spaccherà per il mezzo, da Levante a Ponente, sì da formare una gran valle, e metà del monte si ritirerà verso Settentrione, e l'altra metà verso Mezzogiorno, e voi fuggirete per la valle dei miei monti, poiché la valle dei monti si estenderà fino a Azzal. Fuggirete come fuggiste davanti al terremoto ai giorni di Uzzia, re di Giuda, e l'Eterno il mio Dio verrà, e tutti i Suoi santi con Lui. E in quel giorno avverrà che non vi sarà più luce, gli astri brillanti ritireranno il loro splendore, sarà un giorno unico conosciuto dall'Eterno, non sarà né giorno né notte, ma sulla sera vi sarà luce. E in quel giorno avverrà che delle acque vive usciranno da Gerusalemme, metà delle quali volgerà verso il mare orientale, e metà verso il mare occidentale, tanto d'estate quanto d'inverno, e l'Eterno sarà re di tutta la terra. In quel giorno l'Eterno sarà l'unico, e l'unico sarà il Suo nome. Tutto il paese sarà mutato in pianura da Geba a Rimmon a mezzogiorno di Gerusalemme, e Gerusalemme sarà innalzata e abitata nel suo luogo, dalla porta di Beniamino al luogo della prima porta, la porta degli angoli, e dalla torre di Ananehel agli strettoi del re, e la gente abiterà in essa, e non ci sarà più nulla di votato allo sterminio, e Gerusalemme se ne starà al sicuro. E questa sarà la piaga con la quale l'Eterno colpirà tutti i popoli che avranno mosso guerra a Gerusalemme. La loro carne si consumerà mentre stanno in piedi, gli occhi si struggeranno nelle loro orbite, la loro lingua si consumerà nella loro bocca, e avverrà in quel giorno che vi sarà fra loro un gran tumulto prodotto dall'Eterno. Ognun d'essi afferrerà la mano dell'altro, e la mano dell'uno si leverà contro la mano dell'altro, e Giuda stesso combatterà contro Gerusalemme, e le ricchezze di tutte le nazioni all'intorno saranno ammassate, oro, argento, vesti in grande abbondanza, e la piaga che coprirà i cavalli, i muri, i cammelli, gli asini, e tutte le bestie che saranno in quegli accampamenti sarà simile a quell'altra piaga. E avverrà che tutti quelli che saranno rimasti di tutte le nazioni venute contro Gerusalemme saliranno d'anno in anno a prostrarsi davanti al Re all'Eterno degli eserciti e a celebrare la festa delle capanne. E quanto a quelli delle famiglie della terra che non saliranno a Gerusalemme per prostrarsi davanti al Re all'Eterno degli eserciti, non cadrà pioggia su loro, e se la famiglia dell'Egitto non sale, non viene neppure sull'Eneca, sarà colpita dalla piaga con cui l'Eterno colpirà le nazioni che non saliranno a celebrare la festa delle capanne. Tale sarà la punizione dell'Egitto e la punizione di tutte le nazioni che non saliranno a celebrare la festa delle capanne. E in quel giorno si leggerà sui sonagli dei cavalli «Santità all'Eterno!» E le caldaie della casa dell'Eterno saranno come i bacini davanti all'altare. Ogni caldaia in Gerusalemme e in Giuda sarà consacrata all'Eterno degli eserciti. Tutti quelli che offriranno sacrifici ne verranno a prendere per cuocervi le carni, e in quel giorno non vi saranno più cananei nella casa dell'Eterno degli eserciti.